Sa, io credo che al mondo esistano due categorie di persone, libri e lettori. E lei dunque è un lettore come me? A noi piace osservare le persone, analizzare, pensare. Altri invece sono libri. Esistono solo per essere letti. E non pensa ci sia una terza categoria di persone? Sarebbe? Gli scrittori. Lettori così abili da fingere di essere libri. Libri, pieni di bugie. No. No. Grazie a tutti.